Ciao a tutti, benvenuti nell'orto di Giulia. Oggi andiamo a vedere cosa c'è nel mio orto ad ottobre. Allora, siamo ormai a metà ottobre, quindi la stagione autunnale è partita alla grande. Penso anche da voi, più o meno ormai in tutte le zone d'Italia. È importante ricordare che io sono a Roma, dove il clima è particolarmente mite. Quest'anno in particolare fa ancora parecchio caldo, io sto a mezze maniche, quindi fa caldo. Quindi, diciamo che quello che io vi faccio vedere è riferito a questa zona d'Italia centrale. Vi faccio vedere sia quello che io ho in campo, come sta crescendo, che tipo di varietà ho trapiantato, seminato, e poi anche quelle che alcune cose ancora si possono andare a seminare o a trapiantare nell'orto. Anche se, come dicevo poco fa, bisogna sempre fare riferimento al proprio clima, alla propria zona climatica, e anche all'annata, diciamo, il meteo, che cosa ci riserva nell'anno corrente. Se siamo a Nord Italia, ormai, diciamo, è tardi per fare un po' tutto. Tra poco arriveranno le prime gelate. Se siamo a sud, via libera, che insomma, ancora, penso, faccia veramente parecchio caldo. A proposito dell'annata specifica, io quest'anno ho tardato un pochino i trapianti. Perché? Allora, intanto io, la maggior parte degli ortaggi che ho nell'orto invernale, le compro a piantina, un pochino diverso rispetto a quello che faccio nell'orto estivo. Perché l'estate non ho proprio la forza, la possibilità, a livello di tempo, a livello di energie, per andare a seminare i cavoli, i broccoli nel semenzaio. Perché proprio nel periodo di piena attività estiva non ci riesco. Quindi le vado a comprare. Quindi quello che vi farò vedere oggi sono praticamente quasi tutti i trapianti. Io semino la bieta, le broccoletti, non li chiamiamo, sarebbero le cime di rapa, e gli spinaci invernali. E mi pare basta. Sto guardando. In ogni caso, andare a trapiantare ad agosto, che sarebbe il momento ideale per il trapianto, con il sole che picchiava, come quest'anno, con il caldo che faceva, era veramente impossibile. Avrei rischiato che la maggior parte delle piantine che andavo a mettere sarebbero morte. Quindi, di fatto, anche una perdita dal punto di vista economico. Quindi ho deciso di posticipare, posticipare un pochino il trapianto, e io l'ho fatto ai primi di settembre. Allora, ho già fatto due trapianti. Uno ai primi di settembre e uno a fine settembre, l'ultima settimana di settembre. Ora andiamo a vedere sul campo quali sono le varietà che ho deciso di trapiantare io. Allora, questa prima zona, che vediamo qui, è quella che è stata trapiantata i primi di settembre. Questi cavoli e broccoli che ho qui, ho utilizzato delle varietà precoci e medie. Quindi io voglio andare a raccogliere questa prima parte dai, diciamo, 60, ma 60 sono un po' pochini, più 70, 80, fino ai 100 giorni dal, in realtà, dalla semina della pianta. Quindi è un po' un calcolo difficile da fare nel trapianto. Comunque, orientativamente, ecco, diciamo, 3-4 mesi da quando io li ho trapiantati. Quindi, questi li andrò a raccogliere prima delle gelate invernali. Le gelate da noi ci sono da gennaio, gennaio-febbraio, ok? Questo è sempre riferito alla mia zona. Allora, che varietà ci sono? Ho messo le verze, questa prima fila è un altro pezzettino. Le verze lisce, ricce e rosse. Allora, liscia è quella che viene chiamata anche spesso cavolo cappuccio. La verza riccia è la classica verza, quella con le foglie, è un pochino così crespe. E poi, lì giù c'è la verza rossa. Mi avvicino, questo qui è il broccolo ramoso o broccolo siciliano. Ora vi metto una foto qui per farvi capire. Quello che cresce ci mette e si vanno a raccogliere per un bel po' di tempo questi. Poi abbiamo qui, qui e lì, questi, cavolfiori, cavolfiori bianchi. Ho messo solo quelli bianchi l'anno scorso, ho messo anche verdi e viola. Però quest'anno avevo paura di mettere troppe cose strane. Vabbè, ho messo quelli bianchi, classicissimi. Questi sono i cavoletti di Bruxelles. Quelli che crescono poi andranno a crescere qui nelle ascelle, diciamo, tra le foglie. Ok? E quindi questa è la situazione. Ci vuole ancora un bel po' prima di avere il raccolto. Però le piante stanno bene. Cavolaia quest'anno non se ne vede, per ora. Quindi, bene. Ok, passiamo ai finocchi. Qui abbiamo i finocchi. Sempre trapiantati ai primi di settembre. Questi stanno indietro. Allora, questi stanno molto indietro. Niente, speriamo che riescano a crescere e con questo caldo che fa non andare troppo in altezza. Vabbè, comunque, finocchi. Qui, invece, abbiamo radicchio. Questo è quasi pronto da essere raccolto, insomma, un radicchio variegato, si chiama. E qui le insalate. Queste sono le lollo ricce, rosse, ricce bianche. Queste sono ancora delle varietà abbastanza estive, ma tanto fa caldo. Qui abbiamo, invece, i broccoli romaneschi. Allora, i broccoli romaneschi ne ho messi di due tempistiche. Ho messo sia i medi che i tardivi contemporaneamente e vanno a scalare così. Qui, invece, abbiamo altra insalata. Qui abbiamo l'insalata estiva e dietro abbiamo l'insalata invernale. Quindi, questa davanti è l'attuga, poi c'è la canasta e qui abbiamo la... questa è la scarola e l'indivia, lì là, che è quella un pochino più ricciolina. Ok, ora veniamo al mio errore tempistico di quest'anno che è la bieta. Quella, due file di bieta seminata. Allora, questa l'ho seminata troppo tardi, cioè nel senso, non ho affatto in tempo a fare la semina insieme a questa inizio settembre. Poi una cosa, una pioggia, un'altra cosa, la grandine, quella e quell'altro, e ho fatto tardi. Quindi è un po' piccolina, ma crescerà. Però questa, invece, poteva essere una cosa che già andavo a vendere, invece, niente. Invece, a partire dal cavolo nero, sono delle piante che ho trapiantato a fine settembre, cioè l'ultima settimana di settembre, mi sembra, sì. Allora, il cavolo nero io l'avrei voluto trapiantare anche prima, ma non ce l'avevano e quindi ho dovuto aspettare, ma eccolo. Il cavolo nero, come anche la bieta, in realtà, sono degli ortaggi che ancora adesso possiamo andare a seminare nel nostro orto, perché comunque il cavolo nero soffre pochissimo le gelate, è veramente molto resistente. La bieta, beh, non male, è una crescita abbastanza veloce, cioè riesce a crescere, riusciamo a raccoglierla prima che geli. Allora, mi sono spostata di qua, dove c'è la parte, diciamo, nuova, che richiede urgente di serbo. Devo andare a togliere l'erba. E allora, qui cosa ho ritrapiantato? Questa a fine settembre, come dicevo prima, sempre broccolo ramoso e cavolfiore. Qui poi voglio andare a fare una struttura, una sorta di serra artigianale, poi vediamo se ci riesco. Comunque, la grandezza delle piante è questa qui. Sono sicuramente più piccoli delle altre, ma adesso piano piano recupereranno, si rallenterà un po' nel periodo un pochino più freddo. Allora, diciamo, queste ali ho messo anche le verze, non ve le avevo fatte vedere. Altre verze, sempre successivamente le avevo messe. Comunque, con le verze potete stare abbastanza tranquilli, che soffrono veramente poco il gelo, quindi sono abbastanza resistenti. Comunque, dicevo, quest'area qui, in teoria, è pensata per andarla a raccogliere, diciamo, a gennaio, febbraio, finché riusciamo a portarli. La differenza che c'è in questa parte qui sono le puntarelle, che sono queste piante della famiglia della cicoria, che poi all'interno andranno a creare dei germogli, che sono la parte croccante, che si mangia di insalata tipica romana, con le alici, l'aglio e l'olio, insomma, un'insalatina invernale molto buona. Ecco, anche queste potete ancora andarle a trapiantare, è un'altra di quelle varietà che comunque non teme particolarmente il freddo e invece teme il caldo, l'eccessivo caldo, perché andrà a spigare troppo presto e non forma la palla che ci piace, che ci interessa mangiare. Mi sono ulteriormente spostata in un'altra zona, qui abbiamo i broccoletti, cime di rapa, non lo so come si chiamano le vostre parti. Allora, sono 40, 60, 90 e 120, per andarli a raccogliere in modo scaglionato. Ho fatto un video apposta, ve lo lascio qui, se siete interessati. Questo è un primo settore che ho seminato sempre a inizio settembre, poi ne seminerò un successivo, adesso a ottobre, con la luna calante, quindi tra poco devo andare a fare un altro settore di questi. Anche questi fanno parte di quegli ortaggi che possono essere comunque seminati ancora adesso ad ottobre. Un ultimo passaggio per gli spinaci, questa si chiama la varietà spinaci giganti d'inverno, che sono appunto specifici per la stagione invernale, invece poi ci stanno quegli altri primaverili. Per quanto riguarda gli spinaci, li avrei dovuti seminare già a settembre, anche questi, però l'anno scorso ho avuto un grande problema con l'erba, che non sono riuscita a stargli dietro, e per cui praticamente la prima semina mi è andata quasi tutta buttata. Quindi ho deciso di aspettare e di seminarli per la prima volta adesso ad ottobre, però non sono questi che vedete voi qui. Infatti questi sono nati da soli, nella stessa zona dove li avevo seminati l'anno scorso. E invece la prima semina che vado a fare io sarà nella luna calante, sempre di ottobre, e poi ne farò anche un'altra a novembre. Tanto anche questi il gelo lo sopportano abbastanza bene, o comunque se muoiono, poi quando muoiono le foglie più esterne, la pianta si può andare a raccogliere. Dato questo sguardo all'orto nuovo, vi volevo far vedere come ancora è in produzione, sono in produzione i peperoni, molto belli, e mi sposto di là. E ci sono ancora le melanzane, un po' meno belle, ma anche queste ancora producono. Penso di avervi detto e fatto vedere un po' tutto quello che c'è e che faccio nel mio orto autunno-invernale. E ora vorrei sapere anche da voi cosa ne pensate, che cosa fate, che cosa avete nel vostro orto in questo periodo, e se mettete delle varietà diverse dalle mie, se la vostra zona richiede delle accortezze, o comunque delle tempistiche diverse dalle mie, e mi farebbe molto piacere sapere tutto quello che avete da dirmi nei commenti. Grazie per essere state con me, a presto, ciao!